Buongiorno, in questo video vi mostrerò come realizzo interamente un raccordo dall'ala Z partendo da un blocco di alluminio. Lo andremo a tornare con un tornio parallelo, siccome ne serve uno solo allora è più conveniente farlo con un tornio parallelo singolo e non quello computerizzato. Seguitemi! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!